Affascinante, misterioso, trasgressivo, icona del pop rock britannico, è morto ieri a 69 anni colpito da un tumore David Bowie, cantante e attore, artista tutto tondo, appassionato di Firenze e della Toscana. Era il 6 giugno 1992 quando il Duca Bianco arrivò a Firenze insieme alla splendida e regale modella Somala Eman per celebrare la funzione religiosa della chiesa episcopale di St. James a Porta Prato. La coppia si era già sposata con Rito Civile il 24 aprile 1992 a Lausanna in Svizzera, ma poi avevano scelto il capoluogo toscano per coronare il loro sogno di amore. Nel 1998 uscì lo strampalato western Il Mio West, diretto dal pratese Giovanni Veronese che lo sceneggiò insieme al protagonista Leonardo Pieraccioni. Bowie, che girò le scene in Garfagnana, interpretava il ruolo di Jack Sicora. La grande rock star aveva un legame particolare anche con Pistoia, dove si era esibito nel 1997 al Pistoia Blues, ma anche 28 anni prima a Monsummano, partecipando appena all'inizio della sua carriera al Festival Internazionale del Disco, dove arrivò secondo. Il grande artista, nonostante la lunga malattia, aveva appena pubblicato il suo ultimo disco, Black Star, che rimarrà il suo ultimo testamento. Il grande artista, stred Karmini mà viene vittima Il grande artista, non si è così o